sto rimontando la radio vedete che ho fissato l'altoparlante come era in origine la valvola dell'occhio magico che è tenuta da una molla che serve appunto per capire se la stazione è centrata questo è il telaio perfettamente ripulito adesso devo collegare l'alimentazione del giradischi e fissare il telaio al mobile vi mostro com'è venuto il lavoro finito la radio montata giradischi sistemato ho saldato i fili dell'antenna fm come erano in originale collegato il giradischi alla presa fono secondo lo schema la massa è positivo devo solo fissare la radio al telaio sotto il mobile e poi montare le manopole davanti ho terminato di montare la radio ora vi mostro come funziona questo è l'interruttore di accensione si illumina la scala parlante così è nella posizione fono quindi è pronto il giradischi a funzionare la radio in questo momento è nella posizione di accensione su fono quindi pronta per far funzionare il giradischi accendiamo il giradischi come vi avevo spiegato per azionare il giradischi basta tirare indietro il braccio si avvia il motore e poi si mette la puntina sul disco delicatamente vedete che il giradischi funziona perfettamente devo abbassare altrimenti per il copyright mi bloccano subito il filmato comunque vedete che la radio funziona perfettamente e anche il giradischi ora vi mostro la radio vi mostro ora la parte finale di spegnimento del disco vedete che si spegne all'istante appena arriva a fine disco vi faccio vedere ancora ecco qua è verso la parte finale del brano non posso tenere a lungo il volume alzato perché per il copyright mi bloccano il video però vedete ora il meccanismo guardate a fine disco si spegne però la parte di amplificatore della radio rimane accesa volendo si potrebbe fare anche una modifica fare in modo che si spegne tutto bisogna pensare però a come fare ora vi faccio vedere la parte di funzionamento della radio ora chiudo il giradischi l'ho bloccato col suo gancio per sicurezza e vi faccio vedere la parte della radio allora taffono bisogna commutare su FM quindi vedete che così è su FM allora si può cambiare l'equalizzazione questo è un equalizzatore molto semplice ha tre posizioni questa è un'equalizzazione più adatta per la parola questa per la musica quindi esalta più che altro i toni bassi e alti e così invece è un'equalizzazione tipo normale quindi diciamo che sono livellati allo stesso modo i toni quindi hanno un'intensità identica io ho messo volutamente questa radio con il parlato per non farmi bloccare il video dal copyright vedete la potenza di questa radio questo è l'occhio magico dovrei spegnere la luce per farvi vedere meglio ecco vi faccio vedere ora la parte dell'occhio magico vedete che così al buio si vede perfettamente guardate come varia in base alla sintonizzazione della stazione vedete che poi la ricezione è ottima io sono in un semiterrato e la radio riceve perfettamente vedete quando la stazione centrata si chiude l'occhio magico ora è perfettamente illuminata si vede molto bene vedete che è illuminata benissimo si vedono perfettamente i nomi delle stazioni si può anche vedere l'effetto che fa al buio vedete il buio completo questo è il risultato che è molto bello sto cercando di mettere a fuoco per farvi apprezzare di più è impressionante la potenza dei toni bassi ora devo solo mettere il pannello posteriore e ho terminato il lavoro vedete che bello che è l'occhio magico poi adesso ne hanno parte di altri come quella della bifocca eccetera mi dispiace devo andare via la grande musica soft di tutti i tempi vedete 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 vedete